Lo scudetto, statistiche alla mano, si vince tra i 43 e i 45 punti, ma il Napoli che in 20 partite ne ha ottenuti 35, appare destinato a battere addirittura lo storico record dei 51 punti stabilito dalla Juventus 12 anni fa. I campioni in Italia non conoscono ostacoli e le speranze del Milan sono davvero nulle se gli avversari vincono agilmente anche in trasferta. Domenica il Napoli è passato a Fescara con un gol di Giordano. Ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo in una giornata in cui Maradona, ma non soltanto lui, è sembrato al di sotto dello standard abituale.